mario tessuto cantante attore italiano ma te la ricordi nunzio questa lisa dagli occhi blu si erano era nei miei tempi nel 1970 l'ascoltavo mi piaceva e adoro gli anni 70 perché io purtroppo ho anche una certa età ho 70 anni e grazie alla amica carla e alla radio mi trovo qua a dire qualche qualche cosa della mia dita della nostra mente perché nunzio è uno degli espositori di expo casa e quindi propone nel suo stand un bellissimo stand che abbiamo qui davanti alla nostra postazione è sta tenda 1900 dal 1990 quindi davvero grande esperienza per l'arredamento della casa cosa propone questo stand nunzio senti allora ti devo dire noi siamo produttori installatori di tutti i tipi di tenda praticamente pergole gazebi te bioclimatiche tende verande doppio rullo facciamo un po di tutto ecco la la tenda veranda utilissima per l'estate per l'inverno sì hai ragione è la tenda veranda che a torino va tanto di moda purtroppo è quella che noi vendiamo la più di tutte perché oltre a essere una tenda che ti fa risparmiare il calore in casa ti anche durante l'estate ti dà fresco ecco questo è un prolungamento d'estate abbiamo ancora degli scampoli d'estate che stiamo vivendo sulla nostra pelle quindi è utilissimo poter usufruire appunto di queste schermature che ci aiutano anche per tenere lontani gli insetti sì oltre la tenda possiamo motorizzare dentro la doppio rullo una zanzariera che protegge dalla dell'entrata degli insetti e quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a venirci a trovare a provare con mano la qualità e la professionalità di esta tenda sì grazie alla radio grazie a carla grazie ai suoi collaboratori noi vi aspettiamo numerosi al nostro stand grazie nunzio perché mi hai fatto ricordare un po degli anni e 70 e poi ci hai parlato di questi importanti prodotti che verremo a toccare con mano ciao nunzio ciao carla grazie